Musica Robert Lani, evento esibizione in occasione dei 20 anni di attività, un grande successo con una larga partecipazione. Grazie a tutti i presenti qua stasera, grazie alle mie allieve e a tutte le famiglie loro, grazie ai cittadini di Rio Nero, di Barile, di Dragonetti e tutta la zona di Vulture dove lavoriamo. Un lavoro portato avanti con passione e grandi emozioni. Cerchiamo sempre di portare avanti emozioni, passione, lavoro di ogni giorno per arrivare ai risultati. Questo da 20 anni ma speriamo anche nel futuro di continuare in questo modo. Com'è nata questa grande passione e come viene portata avanti? Non mancano le difficoltà? 20 anni fa certo che era difficile di far balare le signore settantene ma anche i bambini. Piano piano abbiamo cercato di avvicinare, di stare vicini alla gente, di far capire che il balo è bello, di partecipare nelle feste e manifestazioni. Ma certo che non sempre è così facile, non sempre si trovano le strade per arrivare alla finalità. Ma se uno lavora, prima o poi i risultati vengono. Quanto è importante, Robert, ballare per vivere meglio? Sì, questa è una delle cose più importanti per la nostra scuola. Noi cerchiamo sempre di fare di tutto per capire che più si muove, più si balla, più si sta meglio, più si invecchia in un modo allegro e gioioso. Così lavoriamo ogni giorno a far capire a tutti che il balo, il balo è importante. È importante perché così noi muoviamoci, muoviamoci ogni giorno e allora il corpo ha bisogno per questo movimento, per questo divertimento musicale, per questa compagnia amicizia e così si va avanti. La collaborazione di esperti del settore come un fisiatra per l'informazione medico-scientifica, per testimoniare che il ballo aiuta a vivere bene. Certo che era importante il suo intervento, ha fatto capire a tutti che il movimento ti fa star bene, dalle osse, al sangue, al cuore e a tutte le parti del corpo. Qual è stata la più bella soddisfazione in questo momento? E di vedere tutta questa gente che applaude, che aspetta di vedere tutto dall'inizio alla fine e di essere circondati da tanti amici di famiglia, di lavoro e di vedere pieno e pieno sempre da questo amore italiano, anche se sono albanese. In ultimo a chi vanno i tuoi ringraziamenti? I ringraziamenti vanno soprattutto agli italiani, all'Italia che ha aperto le strade a tutti per sviluppare tutte le loro capacità in ogni settore. In secondo luogo diciamo ringraziamenti della popolazione della zona, delle famiglie, di tutti quelli che partecipano e ballano nella nostra scuola. certo alla mia famiglia, alla fine, che mi sta sempre vicino. Grazie a voi e a tutti i collaboratori. Buonasera a tutti e benvenuti. Palazzo dello Sport, il grande giorno è arrivato. Finalmente, qui per celebrare questa importante manifestazione, ballare per vivere meglio, per merito dell'associazione Intercultura di Barile Pionero Dance School, per presentare 20 anni di passione, di emozioni e di grandi successi dell'attività del nostro grande ideologo. Accogliamo con un grande applauso Robert Blanchi. Mi fa piacere avere un grandissimo pubblico, che è già un giusto e un lungo territorio per l'attività di questa bellissima scuola di danza organizzata, come vedete, molto forte, con tantissime individualità che stasera dimostreranno il loro valore e la loro esperienza. Buonasera a tutti. Due parole, dopo parliamo qualche cosa di più. Solo per far capire che stasera non facciamo uno spettacolo, è una dimostrazione del lavoro cinico e dei bambi che fanno le signore ogni giorno qui nella nostra scuola di mano. Allora, vengono manuotate per quell'impegno, per quel movimento, per quel divertimento che li fanno star bene. Grazie a tutti e comincio. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. . . . . . . , , , , . . . , . . , . , ,... . ,... ,... ,... , ,... ,... . . . ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ... ... ,... . e questa grande passione ho vinto ad un maestro del genere tutto è possibile un grande applauso, grazie grazie anche a voi che siete così facenti per vedere fino alla fine siamo arrivati alla parte finale ma prima volevo